gli scarichi cromati macchiati dallo sporco e dall'olio assorbito sono difficili da pulire se usi un prodotto corrosivo fa tutto da solo però la cromatura si rovina e diventa porosa e assorbe e si incrosta lo sporco ancora più velocemente finalmente c'è una soluzione senza corrosivi rs bianco black traccio la sua applicazione è facile e veloce e va fatta con una landa d'acciaio fina imbevuta di prodotto prima si bagna la parte e poi si comincia a strofinare aumentando gradatamente la pressione fino a quando si vede lo sporco assorbito e incrostato liquefarsi a questo punto sarà facilissimo togliere lo sporco liquefatto con un panno pulito una parte di rs comunque verrà assorbita dalla cromatura e avrà funzione protettiva con la più lunga durata d'effetto mai ottenuta prima da nessun prodotto concorrente per evitare l'assorbimento di ulteriore sporco e facilitare la pulizia con detergenti poco aggressivi importante non applicate rs bianco con scotch bright perché è troppo abrasivo e toglie la cromatura fate attenzione ai prodotti troppo facili perché basta applicarli e fanno tutto da soli perché si può ottenere questo risultato solo utilizzando corrosivi questi però terminato l'utilizzo continuano a lavorare rovinando irrimediabilmente la cromatura ma con un danno irreversibile rs bianco è un prodotto italiano e prevettato da black traction senza corrosivi con caratteristiche uniche che non puoi trovare in nessun altro prodotto concorrente lo puoi ordinare sul sito black traction e ricevere comodamente a casa ma non lo trovi su piattaforme come amazon ma non lo trovi su piattaforme come